Sì, Regione Abruzzo ospite, tra una settimana sono il Libro di Torino, sono il Libro di Torino che vedrà come protagonista il nostro Gabriele D'Annunzio. Questa fu un'idea partorita l'anno scorso da Michele Coppolo, che è il mio omologo della Regione Piemonte, tra cui la mamma è di San Vito Chietino, quindi ci tiene particolarmente l'Abruzzo. Da me la proponemmo come idea di festeggiare il 150esimo anniversario della nascita del Gabriele D'Annunzio, questa manifestazione che era più importante a livello italiano, tra i migliori a livello internazionale, per quanto riguarda l'attività libraria, poetica e quant'altro, della letteratura nel nostro territorio, in Italia. Questa partecipazione al Salone del Libro rappresenta un'opportunità di crescita per tutto il movimento culturale della nostra Regione? Sicuramente un'opportunità di crescita per mettere in mostra le nostre eccellenze in campo editoriale e anche perché penso che il D'Annunzio possa veicolare un grosso apporto culturale, turistico e no gastronomico, far conoscere la nostra Abruzzo ancora di più perché logicamente molti curiosi si avvicineranno a questa figura di D'Annunzio e automaticamente conosceranno la nostra Regione.